In questa realtà ci sono tante potenzialità, nel senso che sfruttato adeguatamente questo castello potrebbe veramente servire la collettività vibonese, potrebbe essere un punto di attrazione turistica all'interno addirittura di un polo archeologico, perché qui intorno è disseminato di bellezze ancora da tirar fuori dalla terra e quindi potrebbe anche fornire occupazione ai nostri concittadini vibonesi. Quindi la speranza è che oggi cominciamo a ripulire quest'area, però che sia l'inizio di un percorso che non finisca oggi in queste due o tre ore di lavoro che dedicheremo a questa struttura. La speranza è che da oggi in poi si ricominci a dare importanza a questo sito archeologico. Nel 2015 ci sono stati fatti questi lavori, c'è un servizio di videosorveglianza nuovissimo, guardando dall'esterno dà l'impressione di essere completamente nuovo, ci sono i lampioni, c'è questo sentiero con un basamento di cemento, cioè è già tutto pronto, bisogna semplicemente ripulirlo e restituirlo alla sua bellezza e restituirlo ai cittadini vibonesi.